Ad organizzarlo sono sempre le solite persone, il motore di tutto sono i genitori del quartiere Sant'Orso a Fano, ma il torneo di volle tra i genitori degli alunni delle scuole fanesi è diventato anno dopo anno un avvenimento sportivo tra i più seguiti di tutta la città. Giunto alla sua settima edizione anche quest'anno tenta di aprirsi a tutte le scuole di ordine e grado del territorio, ma dalle medie in su la comunicazione tra genitori è un po' più sporadica rispetto alle elementari ed allora viene in soccorso oltre al passaparola, il web e i partecipanti delle passate edizioni. Questo complica un po' le cose agli organizzatori ma sempre in modo piacevole, visto anche il supporto organizzativo di due corazzate come l'Avis Fano e il CSI Fanese che in ambito di eventi sportivi non mancano certo di esperienza. Tanti genitori, una media di 200 genitori all'anno partecipano a questo torneo. La forza di questo torneo è che non tocca essere forzatamente bravi, anzi al contrario, meno sei capace più ti diverti. Infatti il discorso è di far giocare i genitori, padre e madre dei bambini frequentanti le scuole elementari era partito con le elementari, poi quest'anno sono, oddio, da qualche anno che va bene anche, saremo contenti di vedere i genitori delle medie, addirittura delle superiori, però ci rendiamo conto che per i genitori è più difficile anche incontrarsi e organizzarsi dopo le elementari. Le iscrizioni quest'anno devono essere entro il 28 ottobre perché proprio il 6 novembre, perciò dopo una settimana partirà il torneo che si giocherà solo le domeniche pomeriggio per il periodo scolastico praticamente. Perciò, ecco, così una volta avuta l'iscrizione avrò modo anche di organizzare il calendario. Per iscriversi come si fa? Ah, guardi, basta in qualche modo contattarmi, mi si trova a Sant'Orso, i miei punti di riferimento ce li hanno un po' tutti, o contattare la scuola Filippo Montesi o c'è il sito www.genitorisantorso.altervista.org.